Nasce il primo marchio regionale, pasta di grano duro di Sicilia, di qualità certificata. Sette granicoltori di Valledolmo ci hanno creduto e per primi hanno diritto a un progetto pilota realizzato dall'assessorato agricoltura insieme al consorzio cerealicolo Gian Pietro Ballatore. Pilota perché ha aperto non solo ai produttori e trasformatori, ma a tutti gli operatori dei vari segmenti del settore che aderiscono a un obiettivo comune, creare e implementare il grande sistema di certificazione dedicato alla pasta e il pane di grano duro siciliano, la cui tracciabilità e qualità saranno garantiti da un marchio territoriale. L'assessore regionale all'agricoltura Michele Cimino punta una larga partecipazione per la definizione di un grande accordo di filiera che preveda un rigoroso disciplinare di produzione e specifici contratti di coltivazione e compravendita a tutela del settore primario in modo da permettere ai granicoltori di sostenere una cerealicoltura di qualità. Noi abbiamo dei prodotti che sono da un punto di vista di salubrità assolutamente unici perché il nostro clima ci consente di coltivare in maniera pulita e senza anticrittocamici. Abbiamo un tenore di proteine che ci consente di poter fare proprio la pasta con solo grano duro siciliano e abbiamo scelto di fare un progetto di questo tipo per dimostrare che la pasta di grano duro siciliano è buona ma la cosa importante di questo progetto che naturalmente promuoveremo in tutte le sedi, in tutti i mass media nazionali e internazionali è quello che il beneficio viene distribuito sia all'industriale che all'agricoltore perché noi miriamo che chi vorrà ottenere questo marchio dovrà avere quel grano che è prodotto da agricoltori che hanno un contratto di coltivazione con i pastifici che gli consentirà di poter avere quel valore aggiunto in più all'ahimè prezzo del grano basso in questo momento. In Sicilia la superficie coltivata a frumento si estende per circa 258 mila ettari ciò significa che da questa coltura dipende non solo la sopravvivenza della maggior parte delle piccole e medie imprese agricole delle aree interne ma anche l'assetto idrogeologico del territorio montano e collinare che subirebbero pesanti danni se venissero ulteriormente abbandonati dagli agricoltori. Gli ultimi dati Istat hanno fatto registrare un dato preoccupante dal 2008 al 2009 si è perduta circa il 24% della coltivazione ma nonostante la grave riduzione delle semine la filiera cerealicola siciliana rimane una realtà importante è rappresentata da 115 molini il più alto numero a livello nazionale da 49 aziende sementiere, 192 centri di ammasso, 9 pastifici, 3 panifici industriali e migliaia di panifici artigianali che producono tonnellate di prodotti da forno tradizionali una realtà a sostegno della quale la regione scessa subito in campo conquistando già i primi consensi ben venga un progetto di questo genere che traccia la strada che in futuro potrebbe anche essere eseguita da privati o comunque ci darebbe l'opportunità di compartecipare a un progetto di questo genere a condizione che il disciplinare sia serio e condiviso naturalmente da tutte le parti e che si costruisca un percorso che possa tagliare fuori eventuali speculazioni da parte di tutti i soggetti interessati